buongiorno ragazze come state spero bene allora nuovo video vlog anche oggi perché siccome non l'ho fatto in tutta la settimana e non le più fate questi video vlog si scusate sono in pigiama e metà con la maglia intima ma non le posso fare almeno poi tra poco mi vesto quindi mi vedrete completamente vestita questo video vlog casericcio perché non esco fuori con la telecamera perché non li in vergogna ma più che altro sono mesi or sono che non faccio più video vlog come si deve ovvero al di fuori delle mura di questa casa quindi un po di vergogna ce l'ho quindi un po di vergogna però sono un po timiduccia da quando non tiro più fuori telefono per fare i video in mezzo alla gente quindi mi vedo un po spaesata un po fuori dalla norma quindi no al momento non mi vedrete fuori delle mura sarà quando prenderò un po più di coraggio e un po più di come dire di confident con la telecamera e anche con la gente che mi circonda a fare video vlog fuori da queste mura per il momento non se ne parla neanche perché ragazze sinceramente la trovo un po non dico fuori luogo fare video con la telecamera in mezzo alla gente però per il momento preferisco farli in casa e mi basta così al momento comunque niente ragazzi voi come state spero bene non ve l'ho detto già all'inizio del video perché ho acceso play ovvero la registrazione già sono minuti e 49 di registrazione quindi se il video vi dovesse piacere siete pregati ovvero senza forzata senza essere forzati perché ci non crede altro di mettere un bel like se vi piace il video o un bel pollice in giù non importa e anche perché no fatemi sapere con un commento se questo video vi piace o meno e come devo migliorare il mio canale ma vabbè questo ognuno sono ognuno di voi è è soggettiva la cosa non ci bisogna che ve lo dico io e così e niente quindi io mi sono appena faccia fatta la doccia e tutto quanto il resto e docciata lavata la faccia i denti e tutto il resto va bene non ci bisogna ve lo dico mai così sì mi ho dato in pigiama ma perché dopo la doccia mi sono rimessa in pigiama e ho deciso di tra poco che mi vesto perché sì che mi vesto perché non ce la facevo stare tutta tutta in accappatoio non pareva il caso di accendere con un accappatoio ho detto no mi metto il pigiama la maglia intima forse è caso scusate il telefono altro telefonino se è il caso mi rivesto mi rimetto investire in vestiti cioè mi metto qualcosa addosso di qualche altro indumento al momento ho deciso di mettermi il pigiama in seguito dopo questa registrazione o in un altro clip mi vedrete vestita e niente comunque per il momento adesso voglio cominciare a lavare i piatti perché se non si fa tardi da guardare che ore sono perché se non è un caos allora sono le 10 e 16 cominciamo bene io nel frattempo come dire accendo la tele non la telecamera si ciao nel frattempo accendo la tele e mi vedrete con la la tele è accesa solo che metto un po il volume basso se riesco perché ci dovrei riuscire quindi niente a dopo allora ragazze mie finalmente sono riuscita a mettere la televisione un po non molto alta ma una pena e nulla ora lavo i piatti e basta si è stato che delica volevamo anche chiarire proprio questo aspetto della difficoltà perché le distinzioni sono avvenute la scorsa settimana ieri c'è stata una riunione pacifica rispetto alla strategia della siglina alle primi i capigiani e sepastiano le cose sono andate la scorsa settimana aveva fatto sapere anche attraverso noi giornalisti l'aveva detto anche a me che la volontà minimi era quella di essere spregata senza però in forma come diciamo necessità aveva semplicemente le due grazie di volontà evidentemente la sigla è arrivata al fratello di quale preoccupava che insomma giustamente vuole fare il medico sulla morte della sorella la quale era molto affezionato una mamma di via attraverso l'avvocato che ho sentito proprio poco testo che non si fa l'avvocato c'ha dati e in senso la morte della sigla poi c'è stato il progetto della pietra come vi abbiamo spiegato perché la signora si è fondata tranquillamente nell'appoggio dei familiari e la sigla di una sigla di un momento più importante come funerale non possono esserci visivi e chiamo che però i familiari vogliono la verità e poi si aspetta dalla cultura che la sigla è più esatto intanto con queste soluzioni si fa un grande batter no? c'è la possibilità che l'uransi sia suicidata o sul fatto che sia stato su domicilio però di fatto che ci sono i dati e quindi questo ci potrebbe portare a pensare che la cultura si vede in più verso la teglia del suicidio lei cosa ne pensa? in base anche alla la cultura è molto prudente che giustamente lascia perdere due cose si è delegittimo questo tra l'altro è dire la chiamazione in questa parte la cultura è un'altra parte la cultura è un'altra parte sarà un'impresa un po' alta lavare i piatti stamattina come facerlo da farvi forza allora sto usando questo Dexal questo dell'Eurospin molto buono mi piace molto se ho un po' le mani ma non me ne importa niente importante no non è che non me ne importa niente più che altro è un po' vabbè insomma mi piace ma dopo ogni volta devo stare a mettere la crema mani quando vado a letto la sera perché ho le mani un po' di rospa ma vabbè comunque questo mi ci trovo bene ed è 1500 ml di prodotto e questo è il Dexal per lavare i piatti vedete ecco qua niente adesso lo uso bene per lavare i piatti e mi ci metto una buona lena a lavare i piatti e mi ci metto una buona a lavare i piatti e mi ci metto una buona a lavare i piatti e mi ricca e mi ricca e mi ricca e mi ricca non vi ricca Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 ok. a tutti. 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 adesso. a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.